Grazie a tutti. A questo esempio che avete anche nominato della Summer, come modello che possiamo presentare, quello che tu dicevi rispetto alla necessità e al fatto che poi anche lato formazione, perché abbiamo affrontato questo discorso, da quello che ho capito insomma il pubblico è anche molto eterogeneo, non ci sono… C'è una psicologa, te lo dico, l'insegnante eccetera, no? Lato formazione, volevo introdurre il discorso che poi… però su quello che tu dicevi, della necessità, era bello il percorso che hai fatto ancestrale, del teatro ancestrale come pratica dell'uomo insomma, che cerca di essere, di divenire uomo, sempre più uomo. E quindi anche per la formazione dobbiamo immaginare un percorso molto simile, cioè un percorso che appunto parte da un'azione necessaria che è quella del tramandare poi queste piccole conoscenze che cominciano a costruirsi sul dio del fuoco che ci aiuta a sé, a condizione che è eccetera. E quindi come necessità anche di conservazione, di riproduzione e di anche innovazione dei gruppi, delle comunità, delle società che via via si costruiscono. Dove la dimensione del fare, la dimensione dell'esperienza è fondamentale. Quindi il tratto della performatività dentro la formazione, l'apprendimento è sicuramente un tratto principale. Che poi magari nel tempo, nelle stratificazioni, in tutte le sovrastrutture culturali che poi l'uomo ha costruito e nelle istituzioni che ha creato, no? Per cui immagino anche che questi processi è un po' simile alla differenziazione che c'è stata col teatro, no? Per cui la formalizzazione, le istituzionalizzazioni di tutta una serie di attività portano un po' allo scollegamento, no? Dell'attività per come è nata e per il senso che aveva per gli uomini e tende un po' a cristallizzarsi, no? Diventare un po' astratta, se vuoi, un po' staccata dalla necessità, appunto, no? Da quella connessione, da quel rapporto necessario con la vita, con le dinamiche di funzionamento del gruppo, con l'evoluzione del gruppo stesso, eccetera. E allora anche nel caso delle questioni dell'apprendimento abbiamo poi avuto, no? Differenziazioni, classificazioni, l'apprendimento così, quello colà, quello per i grandi, quello per i piccoli, quello, quindi un po', diciamo, le classificazioni si ripropongono sempre, insomma. Perché penso sia proprio questo processo che poi via via nei secoli c'è stato, insomma, no? Da queste prime comunità, diciamo, le comunità un po' più, diciamo oggi più fredde, dico io, nel senso fredde, nel senso un po' disincarnate dalla necessità, no? Da quello che è proprio una primarietà di vita e di funzionamento. Però appunto l'esperienza e la dimensione performativa dell'apprendimento e quindi anche di coloro che poi trasmettevano, cercavano di diffondere quello che sapevano, è fortemente, un elemento forte che poi anche nel momento in cui c'è stato questo scollamento che dicevo, senza andare adesso a fare una storia della pedagogia in pillole, però diciamo a un certo punto poi ci sono dei formatori, dei ricercatori, degli autori che cercano di recuperare esattamente questo aspetto qui, no? Dell'esperienza e della performatività del fatto dell'apprendimento e quindi del fatto educativo. Allora, con la cattedra del professore Colazzo, io e i colleghi miei che stanno qua, insomma, come gruppo di ricerca, abbiamo focalizzato, negli anni qui, nel po' di anni ormai che lavoriamo su queste cose, abbiamo focalizzato la nostra attenzione esattamente su questa formazione, che è esperienza, che è azione, perché poi già nella parola stessa poi la dimensione dell'azione è contenuta. E quindi tutta la dimensione performativa dell'apprendimento e quindi anche delle azioni di accompagnamento di questo apprendimento che chiamiamo insegnamento. Allora, quel discorso lì fuori dal teatro, eccetera, anche noi ragioniamo di fuori aula, no? Come formazione, che è una metafora per dire, appunto, una formazione è un processo di apprendimento, dispositivi di agevolazione dell'apprendimento che in qualche modo riescono a recuperare la dimensione performativa che c'è dentro il percorso di apprendimento. Di apprendimento inteso come cambiamento, non tanto come acquisizione di conoscenze, di contenuti. Quindi come cambiamento, come trasformazione. Allora, attraverso questo percorso noi abbiamo poi recuperato tutto quello che riguarda la pedagogia di comunità ed è il punto di partenza da cui poi abbiamo mosso una serie di ricerche sul territorio, sul campo e di interventi perché per noi, proprio nell'incoerenza con il discorso che vi dicevo dell'esperienza e della performatività, tutti i progetti che abbiamo portato avanti negli anni sono progetti di ricerca trattino intervento dove l'intervento e la ricerca non sono assolutamente scendibili. In questi percorsi, dicevo, diventa importante la pedagogia di comunità come appunto luogo di azione di questi, luogo di azione di sperimentazione di questi dispositivi di intervento. Quindi andando quindi a lavorare non dentro l'aula, diciamo, ma fuori dall'aula. Perché questo? Perché recuperando questa dimensione di necessità, per noi è importante appunto costruire dei dispositivi che creano degli spazi condivisi di persone, di gruppi in cui è possibile riraccontarsi e quindi riraccontandosi, reinterpretare e riattualizzare continuamente quelli che sono gli elementi costitutivi di un gruppo, elementi che possono riguardare, che riguardano i vari aspetti del funzionamento di un gruppo o di una comunità, se ragioniamo in termini più ampi. Allora, questa dimensione della performatività, ad un certo punto noi abbiamo, cioè, seguendo questo filone arriviamo ad un punto di convergenza con quello che dicevi tu, con quello che diceva anche Franco. Cioè, il punto di convergenza dell'intervento performativo, magari senza usare teatro sociale o teatro eccetera, cioè, l'intervento performativo, per cui immagino questo spazio della performatività a cui si arriva dal teatro, che ne so, dalla danza, dalla musica, a cui si arriva dalla formazione, a cui si arriva dai percorsi educativi, formativi, di intervento, inteso formazione in questo modo velocissimo che ho cercato di illustrare. Quindi, questo punto di convergenza, arrivando da questa parte qui, credo che apre anche uno spiraglio ulteriore che voglio aggiungere in questo discorso e in questo percorso che voi andate a fare, e cioè, la dimensione interdisciplinare possibile dei progetti di intervento nel sociale e nelle comunità, dove quindi è possibile che l'uomo di teatro, la persona di teatro senza uomo o donna, la persona di teatro, la persona del mondo dell'educazione, del sociale, della formazione, possano cooperare dentro dei progetti di intervento che siano poi, quello che dicevi tu, cioè un percorso necessario per fare quello che dicevi, cioè sospendere, fare i pochè del quotidiano e creare quindi uno spazio extraordinario in cui è possibile darsi quella dimensione di riflessione su quello che si fa per aumentare, dico io, non per fare tanto ritrovare l'identità di questo tipo, ma diciamo per aumentare i livelli di autoconsapevolezza, perché il lavoro che, quando si parla di comunità parliamo di sviluppo, si usano questi termini, sviluppo, empowerment, eccetera, eccetera. Cosa significa poi tutto questo, andando alla radice del discorso? Dal mio punto di vista io credo che siccome poi questa direzione di sviluppo, di empowerment, di progettualità non possa essere determinata a priori, predefinita, allora credo che sia importante creare delle condizioni di attivazione, quindi di autoconsapevolezza, di riflessione, nella comunità, perché questa comunità possa essere maggiormente efficace nell'atto in cui si autolegge e si autoprogetta, nella sua autonomia, anche nella sua specificità, insomma, perché poi ogni comunità ha la sua storia, il suo percorso, eccetera, eccetera. Quindi che facciamo quando andiamo a fare un intervento performativo sulle comunità? Secondo me andiamo a creare questo spazio extraordinario, grazie all'utilizzo del teatro e delle arti performative, per creare una situazione di riflessività e di autoconsapevolezza della comunità su se stessa. A partire da che cosa però? A partire da quella che è la propria narrazione di memoria, che però è una memoria prospettica, che può sembrare uno simono ma non lo è. Memoria prospettica perché si tratta di raccontare o riraccontare un percorso già fatto, ma che in realtà mentre lo si racconta, non è raccontato in maniera, non c'è un recupero oggettivo, perché non è una registrazione per cui c'è il file lì, lo riprendiamo, lo riapriamo, un file di dieci anni fa lo riapro e trovo il mio testo di Word scritto. Non è questo che fa la mente, non è questo che fa l'uomo quando ricorda e narra una memoria. Nel mente la sta narrando, la modifica, la interpreta e l'interpretazione è una rinarrazione, è già un nuovo racconto. Quindi creare spazi di interpretazione vuol dire narrare una memoria prospettica, prospettica perché è un racconto che già è futuro, che già introduce delle categorie che possono diventare basi di un progetto. Allora tutto questo, chiaramente da un punto di vista della teoria, della pedagogia di comunità, poi deve diventare qualcosa che concretamente viene fatto. Allora poi in questo senso noi riflettendo a partire da tutto questo percorso, a partire da un'azione di alcuni anni che Salvatore ha fatto con i tesisti, costituendo un laboratorio di memoria, laboratorio memoria anzi senza di scusate, laboratorio memoria dove i tesisti andavano a raccogliere, a parlare e a farsi raccontare, a raccogliere le storie del proprio paese, del proprio contesto di vita o di lavoro, perché ragioniamo di comunità in qualsiasi situazione di aggregata, diciamo, possiamo ragionare in termini di comunità anche dentro un'organizzazione, in una fabbrica in cui c'è una comunità, la comunità di laboratori che stanno lì e su cui possiamo immaginare che può essere importante andare a fare un lavoro insieme a loro. Quindi in questo laboratorio i tesisti hanno cominciato a scavare un po' questi temi praticamente appunto sul campo, in vista poi della loro tesi ovviamente, però in questo processo ad un certo punto ci siamo resi conto che era importante poi ridare alla comunità quello che aveva raccontato. Allora il punto era, sempre per conservare il senso della performatività, dell'esperienziale, del corporeo, cioè quindi di tutto quello che l'apprendimento comporta, che non è solo un fatto mentale o di cervello addirittura, ma è un fatto che coinvolge l'uomo e la persona completamente. Qualcuno diceva emotività, il teatro, non solo, cioè è tutto, perché mette tutto in moto, emotività, cognizione, corpo, percezione. La performatività, le arti performative hanno questo, che ti consentono di costruire delle situazioni, dei dispositivi immersivi e olistici in qualche modo, cioè che coinvolgono la persona completamente. E noi questo volevamo fare nella restituzione, perché non è fai la ricerca, non lo so, a Castrignano e poi tu vai lì un giorno e fai la conferenza in cui la tesista presenta la tesi e racconta, cioè diventava molto povera questo discorso. E quindi da lì abbiamo fatto dei primi esperimenti, proprio con la tesi di Stefania De Santis, che sta qui, là dietro, con la sua tesi su Melendugno, correggimi, Vernale, perché io confondo sempre Melendugno e Melendugno, quei paesi là, ok. Vernale, dove c'erano delle donne che cucivano e c'erano delle storie, c'erano... Era un elemento culturale forte che caratterizzava quella comunità che poi nel tempo si era andata sfilacciando questa connotazione. Da lì parte poi tutta una riflessione che abbiamo fatto e che poi arriva ad un progetto che è stato ideato appunto dal professore Colazzo, che è quello della Scuola di Arti Performative e Community Care, che abbiamo fatto per due volte già consecutive, quindi due anni fa e l'anno scorso. Dove, io dico, è un dispositivo complesso, perché unisce ricerca, formazione e intervento. Ed ecco quindi, mi aggancio anche al discorso di Cevitucce del fatto che non si improvvisa o non si è qualcosa che si fa lì, che uno si alza la mattina, va e dice, beh, ma faccio un po' di teatro di comunità. Se è un'azione che esige di essere fatta, io voglio il migliore che lo faccia. Cioè, a casa mia è la caldaia, io chiamo il caldaista bravo, mica chiamo uno che si improvvisa, quindi assolutamente è fondamentale. Nel momento in cui fai un'azione di questo genere su una comunità, io voglio uno bravo che venga a farlo. Se no, è meglio non farlo, lasciagli le storie lì, belle, tranquille, che non rompono i coglioni a nessuno, ma è meglio non tirarle fuori, perché poi le devi gestire, quelle storie. Cosa che hai fatto tu lo scorso anno fa. Due anni fa con le reazioni binarie, sì, con i casellanti. Dicevo, tre dimensioni, ricerca, formazione. Un grosso timore che io ho nel senso proprio che voi state esprimendo è che adesso Lecce è un po' sotto i riflettori per Lecce 2019, capitale della cultura. Quello che si sta utilizzando molto è questa maniera partecipativa di coinvolgere le comunità. E quello che io temo è proprio quello che avete detto voi adesso, cioè che si stiano aprendo una serie di coperchi, quindi si stiano attivando tutti i settori possibili della città sotto ogni punto di vista, e che poi non ci sia in realtà effettivamente il professionista, i professionisti in grado poi di gestire tutte queste padelle che vengono scoperchiate. Perché ovviamente si stanno creando delle aspettative che sono tantissime all'interno della comunità. Secondo me, dal mio punto di vista, non c'è solo un problema di scoperchiamento, quindi poi c'è della serie, come si diceva, scazzichi, no? Via via, poi non c'è una corrispondenza. Sì, 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 no, è giusto. Il rischio è anche di appunto innescare un processo per fare appunto emergere delle cose, dei materiali, delle idee, la linfa vitale di un territorio, di una comunità, che diventa un serbatoio di significati, di simboli, di rappresentazioni, di immagini interessantissimo da un punto di vista poi dell'utilizzo. di chi poi ad un certo momento arriva ad utilizzare. Non so se mi sto spiegando. Allora, e questo io lo chiamo saccheggio. Non è più nemmeno, no? E questo si propone sempre anche nel piccolo, se tu vai, no? Io vedo anche in giro molte attività, no? Di narrazioni, abbiamo raccolto queste narrazioni, eccetera, quell'altro. Cioè, io credo che, come diceva lui, devi essere il più bravo, comunque devi essere bravo, non so adesso più bravo, non solo, ma c'è un problema etico fondamentale. Chi fa intervento nel sociale, poi chi fa l'assistente sociale, l'educatore, insomma, queste cose anche poi le si affronta nei percorsi di formazione, diciamo, istituzionale, dell'istruzione formale. Cioè, c'è una responsabilità etica perché tu lavori e intervieni sulla relazione, quindi il tuo materiale, diciamo, tra virgolette, anche se è brutto il termine, no? Non sono oggetti, ma sono persone. Allora, chiaramente, questo pone un carico di responsabilità importante. Allora, anche quando si fa l'intervento, questi interventi di cui stiamo dicendo, no? Anche quando usiamo la performatività, che può sembrare un gioco, può sembrare una cosa divertente, ma non lo è, nel senso che può essere anche un gioco, per carità, però è un dispositivo che lavora sulle persone, con le persone e sulle persone, quindi questo carica di responsabilità. E quando uno, cioè, attivando un dispositivo e uno sta coinvolto, in quel coinvolgimento si apre e racconta. Io, sinceramente, ogni volta ho un senso di imbarazzo, perché ho la sensazione di stare entrando dentro le persone, no? E quindi, chiaramente, è un materiale che poi va maneggiato con cura, con grande senso, appunto, di responsabilità e grande senso etico e soprattutto poi a questa apertura tu devi corrispondere. Cioè, quello si è aperto, ok, tu che fai? Qual è la tua apertura che corrisponde poi lì? O questo si è aperto, tu hai preso questo racconto, poi te ne vai e ti fai lo spettacolo. Questo è saccheggio. E tu hai depauperato, no? Hai depauperato dei significati di quella persona alla persona stessa e l'hai fatta diventare merce originale, interessante, nuova, la novità su cui costruire qualcosa. casi umani o nelle storie particolari, eccetera, che sicuramente funzionano, per carità, dal punto di vista estetico, ma ci siamo, vanno forti. E' quello che fa la televisione quando fa piangere la persona e raccontare tutti i cavoli suoi, inizio, non è che quello gli sta dando qualcosa in più. Gli sta facendo svuotare il sacco, facendo il suo audience, eccetera, eccetera. E poi, grazie, è stato bello rivederci. Esatto. E poi che te ne fai? Questo è il punto, no? Del che te ne fai. Allora, l'idea che poi in questo esame l'abbiamo portato avanti, anche con Franco, con Correio, che sono venuti e hanno partecipato in tutte e due le edizioni, e con Antonio, che è stato il regista del laboratorio di teatro di comunità, è stato quello di creare un dispositivo molto complesso, coinvolgendo anche molte persone, per lavorare coralmente insieme a costruire un processo che, appunto, non fosse fine a se stesso, ma fosse lì, che, se vuoi, si saurisse anche in quello che poi abbiamo fatto, nel senso che a noi non interessava costruire uno spettacolo che poi doveva andare in giro, per esempio, no? Ci può stare in giro, io non demonizzo il fatto che poi possa girare quel prodotto che viene creato, se di nuovo rientra in una circolarità di intervento comunitario, perché, per esempio, andiamo a individuare una realtà similare che racconta delle cose simili a quelle che poi abbiamo trovato lì, le portiamo e diventa uno stimolo narrativo di nuovo che genera di nuovo riflessività in quell'altro contesto e che magari poi loro a loro volta producono. Quindi diventa sempre un innesco, una leva di azione, non tanto rappresentiamo, voi state lì e fruite, no? Voi comunità dove andiamo? Quindi si sta sempre dentro questa circolarità e quindi ci vuole, no? Entra in gioco anche tutti quegli aspetti della formazione che sono la valutazione ex ante, cioè la mappatura dei bisogni, il monitoraggio, la progettazione dell'intervento, secondo i criteri e i dispositivi e le metodologie che sono state oramai codificate e che vengono continuamente peraltro aggiornate proprio dalla ricerca sul campo che si va a fare. Poi il nostro contributo essendo persone che oltre che intervenire e menare le mani insomma fanno anche riflessione su quello che fanno e quindi portano avanti i progetti di ricerca dentro l'università, questo ci consente anche di affinare i modelli metodologici di intervento dentro quindi un quadro di ricerca e di scientificità di quello che si fa, cioè che non significa scientificità cioè il bollino per cui tu sei bravo e gli altri sono fessi, ma significa continuamente porre l'occhio critico e dire ma quello che voglio fare lo sto facendo veramente? Succede esattamente quello che ho pensato? Oppure ho sbagliato qualcosa? Si può affinare? Si può migliorare? Questo cioè l'occhio critico continuo su quello che andiamo a fare per capire se l'azione poi ha un risultato, se c'è un'attivazione, se c'è un innesco di processo che poi deve durare. infatti l'altro elemento fondamentale secondo me un parametro importante è il tempo. Se parliamo di teatro sociale se parliamo di arti performative che intervengono nelle comunità che fanno intervento sociale intervento di attivazione di accensione della partecipazione eccetera dobbiamo mettere in conto il tempo cioè non possono essere azioni mordi e fuggi non può essere la cosa che vai lì stai là e te ne vai cioè deve essere un processo cioè che sinceramente può anche riguardare anni perché tu ci ritorni perché hai un contatto continui a raccogliere cioè come si apri e poi l'esperienza di cui ci parlavi tu che dura da più di 4 anni oramai quindi il percorso che loro stanno facendo è qui ritornando sempre ed è bello anche questa cosa che ritornano magari c'è lo stesso giovane c'è un altro che crea anche un ponte se vuoi intergenerazionale un transfert di contenuti di possibilità a partire da quel nucleo centrale di partenza della narrazione quindi il tempo diventa fondamentale per costruire dei percorsi di intervento comunitario io dicevo il dispositivo così magari riesco a descriverlo proprio velocemente il dispositivo ha una parte di ricerca che è proprio legato alla ricerca intervento svolta sul territorio di riferimento o sul target di riferimento cioè la tipologia praticamente di persone o destinatari di quello che può essere l'azione quindi non so se può essere un gruppo di giovani dicevo prima un contesto organizzativo una comunità di lavoratori cioè a seconda ovviamente di quello che è il progetto che si vuole portare avanti e c'è una parte di ricerca che fa che cosa fa una mappatura a partire dalle narrazioni dai racconti di queste persone costruisce una mappatura cioè una sorta di scenario perché bisogna capire lo scenario da cui partiamo quindi non possiamo andare a fare intervento a mani nude dentro un contesto dove arriviamo lì ed è tutta tabula rasa dobbiamo prima comprendere dove stiamo e avere quindi le coordinate di riferimento questa mappatura che è proprio una mappa per capire quali sono attraverso le storie i simboli che ricorrono in quella comunità per esempio Antonio faceva riferimento alla prima edizione che riguardava i casellanti i caselli quel tipo di realtà lì quindi in quel caso i soggetti erano interpellati furono quelli quest'anno invece abbiamo fatto un discorso sui contadini i nostri salentini ancora viventi che facevano i migranti stagionali negli anni 60-70 fuori dall'Eccese tra la zona della Basilicata ma anche fuori noi abbiamo attenzionato soprattutto quelli che andavano in Basilicata e che adesso sono viventi hanno 70-80 anni e loro erano bambini quindi delle figure di riferimento che prendiamo rispetto al progetto che portiamo avanti su cui costruiamo una mappatura cioè li ascoltiamo ci facciamo raccontare farsi raccontare quello che loro fanno o hanno vissuto perché diventa questo repertorio per costruire la mappa degli elementi che li caratterizza quali sono i loro simboli di riferimento le immagini le rappresentazioni i vissuti che hanno connotato quel tipo di attività questa mappa diventa il materiale grezzo su cui costruire una drammaturgia che non viene costruita però a tavolino a freddo ma viene costruita coralmente insieme a un gruppo di persone che si iscrivono alla scuola e che partecipano e che è la parte formativa cioè la parte formativa che volta appunto a formare un po' come state facendo voi qua a formare gli operatori che fanno intervento nel sociale quindi educatori assistenti sociali insegnanti formatori ma anche quelli che vengono dalle altre strade che convergono sul sociale cioè gli artisti che vogliono darsi invece la parte degli strumenti metodologici relativi alla ricerca sociale e all'intervento pedagogico costruiamo costruiamo un percorso formativo che anche lì piuttosto che essere formazione e basta diventa formazione e azione perché chi formiamo li mettiamo già nelle condizioni di dover lavorare con questo materiale per fare l'intervento nella comunità per fare la restituzione quindi piuttosto che lavorare e formarsi su questioni generiche su argomenti astratti o casi astratti lavoriamo direttamente con questo materiale frutto della ricerca pregressa e nel lavorare su questo quindi nel costruire tutto l'intervento nel mentre viene costruito l'intervento c'è l'apprendimento delle metodologie che noi proponiamo per costruire l'intervento con queste persone intervento che poi va nella comunità quindi l'intervento che diventa nel posto dove si sta perché è un'attività residenziale che dura anche alcuni giorni una comunità che è stata appunto precedentemente interessata che viene interessata anche successivamente perché si ritorna in quella comunità anche a distanza di tempo per esempio adesso abbiamo organizzato una serie di appuntamenti che dovranno poi esserci nei prossimi mesi e poi nella performatività oltre al teatro proprio perché pensiamo che poi le arti consentono di attivare tutti i canali quindi visivo uditivo tutti i canali sensoriali che possono essere chiamati tutti a raccolta per attenzionare un tema all'atere o intrecciato nel dispositivo di laboratorio di teatro di comunità c'era una mostra c'erano dei workshop di videodocumentazione sul corpo sulla musica c'erano delle proiezioni serali con commento e discussione con gli allievi della scuola proprio per approfondire ulteriormente gli argomenti perché poi per esempio quest'anno proprio perché dicevo la memoria è prospettica quindi la narrazione non la raccogliamo per contemplarla e dire vabbè che bello questi vivevano così ma diventa per noi dentro l'idea di pedagogia della comunità c'è che il racconto di memoria che è prospettica appunto è un serbatoio di significati utili su cui impiantare rielaborazione di quei significati quindi processi di progettazione nuova e quindi di rigenerazione sociale di generatività creativa nelle comunità eccetera perché sia questo quando noi recuperiamo queste narrazioni cerchiamo sempre di proporle dentro una cornice che poi aggancia l'oggi e aggancia anche le nuove generazioni perché il racconto giocoforza ti viene essendo di memoria ti viene da persone di una certa età e tu hai la possibilità invece di riproporre queste cose generazioni nuove tant'è che i formandi sono persone giovani che il più delle volte ignorano completamente questa parte della loro storia del loro progresso che comunque è un substrato su cui la comunità ha funzionato e che continua a funzionare diventa una sorta di background di sommerso che sta lì e che se non conosci difficilmente riesci poi a dialogare anche per distanziarti neanche per riformularlo completamente e quindi l'utilizzo di queste storie viene agganciato con l'oggi con le nuove generazioni che ignorano queste storie e agganciate ai temi di oggi che in qualche modo hanno sempre un nesso nel caso di quest'anno ripeto il racconto che noi abbiamo recuperato erano le narrazioni dei contadini che migravano stando 7-8 mesi lontano da casa vivendo nelle masserie isolate arrangiati in piccole stanze per la lavorazione del tabacco perché i leccesi erano molto richiesti come mano d'opera perché eravamo abilissimi coltivatori mi venivano costruttori no coltivatori di tabacco e poi anche sapevamo insomma essiccarlo bene insomma produrlo esatto c'è tutta la filiera per arrivare poi alla consegna delle foglie alle manifatture che poi lo trasformavano insomma era tutto un processo che veniva svolto interamente dei conti di salentini in 8-9 mesi di lavoro per 12-15 17 ore al giorno e questo però lo abbiamo agganciato con l'oggi con i nuovi sfruttamenti perché lì sono state storie di sfruttamento storie di sacrificio storie di dolore di sofferenza che continuano oggi continuano con nuovi salentini tra virgolette che sono i migranti che ci sono qui e noi li abbiamo agganciato con questo discorso e con i discorsi attorno alla terra come pratiche che possono essere oggi peraltro molto attuali possono essere pratiche possiamo disegnare pratiche attorno alla terra che non possono partire da queste riflessioni per andare poi a disegnare nuovi percorsi che possono essere quelli che oggi già si intravedono e sono quelli in cui i giovani stanno recuperando c'è tutto un ritorno tra virgolette alla terra che per i giovani non è un ritorno perché non ci sono mai stati quindi fondamentalmente è un avvicinarsi allora può essere interessante questo perché diventa ricostruire un po' lo scenario che richiamo poi i temi che sono attualissimi che sembrano stare da un'altra parte e che invece ci riguardano sempre molto da vicino solo il nostro quotidiano perché in piccola parte il nostro quotidiano entrano sempre quindi migrazione sfruttamento caporalato ai danni dei migranti africani l'Africa le terre in Africa lo sfruttamento selvaggio del sottosuolo africano eccetera eccetera questi erano i temi che poi avevamo composto composto in una drammatizzazione in una restituzione performativa che abbiamo fatto nel paese quindi usando questi canali piuttosto che appunto una trattazione che adesso poi io sto facendo adesso a voce però a me interessa soprattutto rispetto al percorso che state facendo voi il fatto che sia un dispositivo complesso che deve tenere assieme la performatività la ricerca cioè l'analisi la mappatura dei bisogni dei soggetti con cui andiamo a lavorare altrimenti stiamo lavorando alla cieca ed è praticamente impossibile fare un intervento sociale alla cieca cioè non esiste un intervento sociale alla cieca quindi ci devono essere degli strumenti metodologici importanti per decodificare tutto quello che c'è come presupposto in quello che noi stiamo andando a fare e poi fare un percorso un processo dove secondo me se si lavora in equip interdisciplinare è molto meglio perché per esempio la parte per esempio il percorso mio che è pedagogico e di ricerca e soprattutto attenzionato sulla mappatura dei bisogni con metodologie narrative io arrivo da questa parte qui e poi mi incontro con lui che ha tutto no 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 con cui si costruisce la dermatologia perché lui appunto ha tutta questa dimensione poi per esempio di lato teatro io vedo proprio delle strade che poi confluiscono in un punto in un crocevia e che consente poi effettivamente di fare un intervento che possa essere sufficientemente articolato sufficientemente complesso è corale per sperare di avere degli effetti che poi uno innesca però sono micce che uno accende e poi tu non sai poi devi ritornare dopo un anno dopo due anni e fare una mappatura e vedere che è successo se da lì è venuto fuori qualcosa per esempio quindi è una cosa molto articolata e complessa e tutt'altro che è una cosa facile a cui uno ripiega perché magari non riesce a fare altro insomma vorrei chiedere in realtà a ciascuno di voi cioè quali sono le aspettative nei confronti di questo incontro vale a dire ciascuno di voi è venuto qui perché ha declinato evidentemente il tema di teatro sociale in qualche in qualche maniera siccome abbiamo abbiamo ben capito quali sono magari le esperienze che sono state messe a frutto comunque sono state messe a valore per questo incontro io volevo chiedere a ciascuno di voi proprio di passare il microfono e di approfittare del fatto che stiamo analizzando tanti aspetti così diversi da tante angolature sfaccettature così diverse del teatro sociale quindi sapere in realtà voi per quale motivo siete venuti questo pomeriggio qui e poi magari loro ci risponderanno se si tratta di domande cioè chi me l'ha fatta fare niente no io ho partecipato a questo incontro perché sono venuta a conoscenza in realtà l'altro giorno casualmente personalmente perché sono appassionata di teatro non perché ho fatto teatro ma l'ho anche messo un po' da parte per altri motivi però del teatro sociale non mi sono non ho mai avuto non mi sono mai avvicinata al teatro sociale ho fatto il il classico laboratorio teatrale delle tragedie classiche adesso legano tutti no no io teatro sociale no davvero e purtroppo cioè purtroppo non l'ho mai fatto cioè sarebbe anche cioè non ne ho mai sentito parlare prima cioè a questi livelli prima prima d'oggi in realtà e niente comunque il teatro classico comunque tutto ciò che c'è dietro il teatro bene o male di quello più o meno ne sono a conoscenza però comunque sì una conoscenza personale io studio sì però la passione del teatro è andata sempre dal liceo e poi filosofia scienze dell'educazione la magistrale sì allieva vostro allieva vostro anch'io uguale filosofia scienze dell'educazione niente più che altro per curiosità per conoscenza perché mi ricordo alla triennale avevamo fatto sempre con con voi un laboratorio di attività espressive e lì c'era da parte vostra tutto un discorso sul teatro siamo andati pure al rettorato e sì qualcosa di musica e quindi più che altro per conoscenza per curiosità più che altro come dicevo prima lavoro nella scuola mi sto trovando soprattutto in questo periodo a dover organizzare per i miei studenti dei percorsi di apprendimento in qualche maniera innovativi che possano tener presenti anche queste queste tematiche insomma che sono state qui affrontate ero convinta ero sicura di trovare qui degli stimoli interessanti e quando sono venuta a conoscenza di queste tre giornate ho voluto aderire proprio per trovare insomma delle idee per sentire per ascoltare e per poi progettare quello che ho sentito è stato molto interessante soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento performativo che va poi a fare questo riferimento olistico sulla persona completa e trovo che questo sia veramente molto interessante per il lavoro che si va a fare poi nella scuola a parte poi la passione mia personale per il teatro che mi ha vista in alcuni periodi della mia vita anche un po' distanti nel tempo legati a delle esigenze così particolari a frequentare a partecipare a degli stage a dei workshop a dei lavori che ogni volta insomma hanno rinnovato in me delle cose e mi hanno stimolata poi per il lavoro fondamentalmente la mia presenza qui è è stata una semplice curiosità accompagnavo la collega con cui insegniamo insieme allo stesso istituto e devo dire che in tutta la discussione che c'è stata ho ritrovato insomma degli elementi di alcuni percorsi formativi fatti in passato che hanno fatto leva sull'utilizzo del teatro per potersi esprimare per esempio aggiungo che io mi interesso di educazione del corpo attraverso il corpo che insegna l'educazione fisica per cui il teatro per certi aspetti insomma rientra in questo ambito io non mi sono trovata no siccome anche l'altra volta sono stata bypassata ho detto forse no io non c'ero per non c'ero la domanda più o meno non lo so perché siamo qui perché siamo qui io sono appassionata di teatro mi dedico soprattutto al teatro rivolto ai bambini quindi sentendo lei sono andata veramente in crisi nel senso quando parlava di responsabilità quando quando il teatro dice vuol dire trasmette e quindi ho trovato che che il discorso molto interessante e anche come devo dire cioè la voglia ancora più di mettersi in gioco di di studiare di non smettere mai ecco di prepararsi per proporsi naturalmente non si può pensare di di essere arrivati di dire io sono il migliore il migliore non è possibile è un'attività questa che bisogna sempre stare insomma essere disponibili ad accettare ad aprirsi a rinnovarsi soprattutto questo e niente sono qui proprio per questo motivo proprio per per ricevere in continuazione niente io faccio sì diciamo faccio teatro recentemente ho partecipato a un laboratorio di teatro di narrazione che si chiamava il progetto memoria minerale e quindi ho scoperto questo mondo del teatro fatto appunto attraverso le esperienze dirette di persone a volte molto anziane da questo laboratorio poi è nato sono nati nelle piccole drammaturgie tra cui la mia che io non sono non sono proprio di mesagne io vivo a mesagne ma non sono di mesagne e mi sono molto divertito a partecipare a questo laboratorio perché poi mi è nata questa stesura su un personaggio diciamo un personaggio un attore che ha vissuto molti anni a mesagne di cui non sapevo l'esistenza diciamo non conoscevo cioè conoscevo il personaggio perché si chiamava Baldolai ho scoperto che lui viveva a mesagne molti anni fa addirittura è sepolto a mesagne e quindi è nata insomma la curiosità di fare questo di scrivere questo testo andando a raccogliere in giro le storie su questo personaggio su chi l'ha conosciuto chi l'ha incontrato a documentarmi su piccoli aneddoti ho visitato la sua tomba insomma mi sono proprio divertito a fare una scoperta quasi investigativa su questo personaggio che tra l'altro ho trovato anche delle cose che ci accomunavano perché anche io sono arrivato a mesagne e poi insomma non me ne sono più andato forse ho trovato anche questa corrispondenza tra la vita reale e la vita di un personaggio e quindi ho scoperto insomma il teatro di narrazione ho scoperto il teatro o meglio ho scoperto il teatro di memoria grazie a questo progetto che si chiama appunto Memoria Minerale sì sì proprio lui sì sì il tenente Sheridan perché il compito che ci era stato assegnato era proprio questo cioè trovare una storia legata al territorio e quindi poi naturalmente scoprirla narrarla documentarla insomma quindi sono andato in giro a chiedere di raccontarmi le storie di farmi raccontare storie e ho conosciuto una persona che già conoscevo che fa teatro che fa teatro amatoriale insomma teatro così un po' invernacolare che mi ha detto ma tu sai che Ubaldolai insomma è morto qui è sepolto qui a mesagne e ho detto siccome io conoscevo Ubaldolai così non ricordo da bambino vedevo i suoi i suoi spettacoli in tv sì sì infatti era proprio bello il tema era molto interessante perché recuperare appunto un personaggio da una terra che lo ha conosciuto e che lo ha dimenticato mi sembrava una bella sfida insomma molto simpatica come cosa poi devo dire abbiamo rappresentato questo spettacolo in una rassegna insomma che è sempre organizzata in questo contenitore molto molto bello molto bello comunque era diretto da Niccolini questo laboratorio quindi insomma da una persona molto ma qualcuno sì qualcuno sì però in realtà non lo conosceva nessuno ho notato che a mesagne questa figura sì esiste appunto tra le persone che l'hanno conosciuto ma fondamentalmente l'hanno proprio dimenticato nel senso che anche gente magari della mia stessa età l'ha proprio dimenticato cioè non non sa più sì si ricorda ah sì sì un tenente Sheridan però devo dire che la memoria è veramente molto molto labile molto e se non si alimenta attraverso questo genere di operazioni si cade proprio nella nel nulla e quindi questa cosa qui mi dà molto non so mi fa caponare la pelle allora ho detto no bisogna fare qualcosa insomma io sono io ho 31 anni e studio beni mi sono trasferita adesso sono ritornata da poco in Puglia anche io sono di mesagne collaboro con lui da molto tempo ho sempre conosciuto il teatro attraverso la mia passione per cui è un contesto che vivo da molto vicino e che peraltro mi ha portato quindi ad intraprendere gli studi teorico-critici perché io mi occupo di questo quindi sto terminando gli studi universitari il teatro sociale è un contesto che mi interessa molto perché penso intanto che rifletta fortemente la questione del territorio ed è un ambito che dovrebbe essere più approfondito probabilmente perché rappresenta una come dire una memoria collettiva anche no dei nostri tempi che va recuperata profondamente cioè se tutto quello che concerne i miei studi mi hanno portato con lo studio della letteratura del teatro classico perché di quello si tratta ad un approfondimento della mia sensibilità culturale sotto il profilo chiaramente come dire culturale non nel suo farsi concretamente ho compreso che è un aspetto che in considerazione dei tempi moderni peraltro e che riguarda le dinamiche lavorative anche di noi giovani soprattutto è un contesto che va molto approfondito bisogna veramente trovare di nuovo un'aderenza col territorio e per questo mi riferisco in modo particolare anche alla Puglia che è una terra che ho tantissimi amici che lavorano nel contesto cinematografico teatrale che si sono molto spesso allontanati da questo territorio e che citando De Martino con la Puglia la terra del rimorso ritornano dopo anni e cercano di incentivare le attività lavorative professionali perché ritrovano all'interno di questa terra abbandonata poi invece il frutto per il lavoro futuro e quindi adesso lo sto circoscrivendo ad un aspetto particolare ma credo che il teatro sociale in realtà sia un po' la rappresentazione il riflesso lo specchio e a questo mi riferivo prima cioè è davvero un'urgenza una necessità che deve essere recuperata in virtù di una situazione anche sociale molto forte molto evidente cioè noi viviamo in un periodo di totale destabilizzazione in un periodo che ha veramente poca attinenza con con quelli che sono i nostri valori e quindi recuperarli attraverso il teatro sociale intanto io sono venuta qui perché secondo me ho bisogno di acquisire delle conoscenze sotto il profilo linguistico sotto il profilo contenutistico bisogna di comprendere se ho questo intento professionalizzante nella mia vita delle conoscenze che non ho e quindi sono venuta qui per essere istruita su dei contenuti che non conosco per acquisirli ma credo profondamente che si debba dare un incentivo a questo aspetto del teatro perché è un teatro profondamente genuino autentico che può riportare ad una riconciliazione ad un contatto nuovo con un aspetto che forse è sottovalutato e che è profondamente identitativo nei confronti anche del nostro territorio se a questo mi riferisco quindi questa è la mia esperienza io non sono psicologa ma sono un'educatrice una semplice educatrice laureata in scienze pedagogiche no assolutamente no assolutamente no no non è per quello era perché era sorta una no no c'è una battaglia tra me e lei no perché per scherzare io ho detto che per me il teatro è interazione e lui ha detto ma sei psicologa però devo dire la verità per me il teatro è essenzialmente come dicevo prima appunto catarsi è terapeutico il teatro tanto più perché io lavoro con i ragazzi sì sì aveva ragione e per questo io sottolineo molto il valore psicologico del teatro per me ha una forte valenza in realtà avrei voluto continuare gli studi per prendere un'ulteriore laurea poi ho lasciato stare ma comunque io veramente credo fortemente e nel laurea in cosa serve da prendere? psicologia ci posso dire è anche il lavoro che mi porta a valorizzare molto questo aspetto con i ragazzi lavorando appunto con i ragazzi mi rendo sempre più conto giorno per giorno quanto abbiano desiderio e voglia di essere protagonisti tanto più poi l'età che hanno va dai 6 ai 16 anni più o meno renderli protagonisti è importantissimo ecco poi teatro sociale quanto più mai si realizza poi in questa comunità loro hanno provengono da famiglie svantaggiate con comunque problemi alle spalle e hanno questa forza questa voglia di raccontarsi anche per scaricare la rabbia che loro hanno accumulato negli anni sebbene siano anche molto giovani però a casa vedranno sicuramente delle situazioni poco felici con i piccoli esperimenti che io sto facendo nel centro dove lavoro loro quando sentono parlare di teatro quella volta la settimana due che lo facciamo ovviamente sotto forma di gioco loro sono contentissimi e questa cosa mi fa molto piacere perché loro vengono difficilmente attratti da qualcosa anche i giochi che facciamo il semplice salto con la corda la campana sì lo fanno ma dopo pochissimi minuti già perdono l'attenzione perdono la voglia invece attraverso il teatro attraverso la possibilità di raccontarsi che hanno o comunque anche semplicemente di imitarsi o di ricreare scene scusate ma io sono molto pratica cioè vado proprio al nocciolo della questione del teatro il recitare loro si scaricano proprio scaricano queste loro ansie queste loro rabbie che hanno represse e diventano anche se per pochi minuti per mezz'ora tre quarti d'ora altre persone la potenzialità si vede in quella mezz'ora ma no ma improvvisiamo anche delle scene quotidiane do a loro un input loro poi devono elaborarlo per come vogliono loro li lascio in campo libero ovviamente guidati da me e loro colgono colgono molto bene gli spunti che do e questa è una cosa sembra banale ma per i ragazzi che sono è una piccola vittoria perché già il semplice far fare compiti è una cosa difficilissima perché già avere un compito scritto da fare per casa i compiti che segnano a scuola ogni pomeriggio è una lotta non li portano mai a termine ogni pomeriggio è una è una lotta appunto invece il dare un compito teatrale brevissimo di pochi minuti e portarlo a termine perché a loro piace perché li prende è una vittoria è una conquista e allora da lì si possono cercare di veicolare anche altre altri contenuti renderli appunto come dicevo prima protagonisti sono venuta qui proprio per avere confronti per avere un arricchimento è chiaro spunti che sicuramente porterò nel mio bagaglio personale preferisco nel mio zaino da portarlo proprio addosso come fosse quasi un cappotto e vi ringrazio allora da dove inizio io ho un paio di esperienze tra virgolette molto generiche di teatro sociale una molto caotica e un'altra più strutturata è un'esperienza invece di teatro fuori dal teatro faccio un intervento che dura 38-39 minuti lo cerco di condensare in poco in pratica nella prima esperienza io portavo insieme a una comunità di recupero dal disagio psichico io facevo i rapporti con le scuole il progetto si chiamava Emergenza Terra e io dovevo andare e partiva da un concetto bellissimo cioè il concetto di scarto umano e materiale usato come qualcosa da cui creare arte cioè ciò che per l'umanità è uno scarto io lo riutilizzo per creare qualcosa che è più bello della normalità fra virgolette e lì io mi sono scontrato con quello che dicevi tu cioè i ragazzi che andavano per conto loro poi figurati alle scuole superiori e ho usato la la violenza cioè mi spiego ho cercato di far leva sulla curiosità loro attraverso dei metodi di decapitamento non violento degli insegnanti cioè io gli insegnavo un modo in cui la testa dell'insegnante andava a cadere nel punto cieco dell'occhio e quindi l'attenzione di tutti i ragazzi l'avevo presa per tutto il resto della lezione in cui gli spiegavo dei meccanismi di autodifesa dalla normalità è bellissimo e poi è bellissimo poi ti insegno questa è sì è neurologia proprio perché il punto cieco è il punto da cui partono i nervi ottici alla fine il secondo il secondo episodio è un laboratorio di sicurezza sul lavoro fatto da un'azienda di Torino che si chiama Performing non so se su tutta l'Enel a livello nazionale regione per regione in cui si prendevano i capi operai gli si faceva raccontare un loro episodio di incidente sul lavoro e si metteva in scena attraverso dei cortometraggi cinematografici bom fine prima parte nella seconda parte c'era proprio un evento teatrale con degli attori professionisti in cui ai corti che venivano proiettati si intervallavano degli interventi dei capi operai quindi si tagliava tutta la gerarchia dell'azienda e si mettevano i capi operai direttamente a contatto con i cavoccia dell'Enel in un evento in cui c'erano famiglie c'erano gli altri operai e quindi si creava questo impatto forte da parte dei capi che non erano abituati a parlare una platea di non loro pari o non loro dipendenti sottoposti e da parte dei familiari o degli operai stessi che vedevano i loro capi operai vestiti da bambino da donna e quindi c'era questo momento il teatro fuori dal teatro io ho avuto questo questo problema io sono giornalista pubblicista sono laureato in storia dell'arte ma la mia malattia è la curiosità quindi io vado a ricercare dove trovo una storia vado a vederla e mi sono chiuso otto mesi in biblioteca e ho trovato delle storie antiche di Lecce che sono come diceva lui o troppo piccole per essere raccontate troppo private o troppo sporche e quindi da dover essere insabbiate stiamo parlando del 600 e del 700 quindi sono andato a ricercare che cosa è successo durante l'eco dei moti masanelliani a Lecce ciò che ha fatto Pappacoda che ha rinchiuso tutti i preti in piazza Duomo e li ha armati oppure sono andato a ricercare le radici storiche della leggenda del volto che c'è in via d'Aragona sulla via dei pub anche lì ricerche sugli alberi genealogici ameriste storie familiari la storia degli stabili che parte da Tricase tutta una serie di e punti di vista inediti cioè il barocco per esempio raccontato da uno a cui il barocco gli sta proprio sul cazzo cioè uno che è costretto a raccontare il barocco perché è uno scrittore di guide per Grand Tour nell'Ottocento e che però a Lecce non gli piace e quindi escono delle cose straordinarie belle e la cosa particolare che vi dicevo è che queste io non ho bisogno di scenografie perché io queste storie le racconto nei posti dove sono avvenute quindi la ritorniamo al discorso del teatro fuori dal teatro attraverso un punto di vista interno alle storie naturalmente niente io sono qui perché stamattina poi parlando con il professor Colato e quindi no no e anche perché anche perché insomma in passato ho voluto partecipare ad alcuni laboratori teatrali che si sono fatti quando un giorno sono rimasta insomma affascinata dalle lezioni di Paolo Panaro io non so adesso se qualcuno di voi conosce Paolo Panaro che è un attore di teatro molto bravo per cui e lui in quel periodo organizzava dei laboratori però lui fa essenzialmente teatro della narrazione che però non è proprio come quello che stasera si è detto si è detto qui o che abbiamo visto così nei teatri insomma il teatro di narrazione per Paolo Panaro è appunto quello di andare a riprendere rivedere delle opere teatrali anche del del Secento in dialetto napoletano e di riportarle quindi in scena io al teatro al teatro sociale in realtà non mi ero mai accostata e quindi è per questo che stasera mi trovo qui e buono sì no vabbè no ma nel senso che adesso in questo periodo mi sto avvicinando e accostando al teatro sociale ma non è che conosca in maniera approfondita teatro sociale o no è vero va bene passo e niente io sono qui per pathos come l'associazione perché io semplicemente ho visto la mail non l'ho neanche letta e ho visto che c'era Musi di cui sono Musi scusami infatti si vede che non ho letto bene la mail ricordavo prima di là mi sono ricordata molto felicemente l'intervento che ho fatto alla summer questa questa estate in cui l'ho travestito insomma con i treni insomma mi è divertentissimo i nomi Antonio Damasco il professore quindi sono venuta così di spontanea e poi anche perché comunque dai racconti di Franco Ungaro sì sì sto stringendo niente volevo questa sacralizzazione diceva Antonio dei luoghi ero proprio curiosa di vedere il teatro di Coreia non soltanto nella parte in cui fanno il teatro ma anche dalle cucine proprio per curiosità di questa cosa qua tutto e quindi volevo capire anche questo contesto e adesso vorrei ecco chiedere se posso anche girare nei luoghi insomma e poi sinceramente vengo fuori dalla laurea da una settimana e tutti continuano a dirmi quindi adesso farai domande nelle comunità farai tossicodipendenti no io vorrei insomma no sinceramente ecco vorrei siccome per me il teatro sociale è partecipazione emotiva e quindi vorrei in senso specializzarmi in qualcosa del genere quindi quale meglio occasione di questa quale migliore occasione di questa per approfondire queste chicchie che già nella summer per me hanno rappresentato tanto io invece premesso che non ci riesco ma ci compensiamo per quello premesso che mi ha sempre affascinato il mondo del teatro quindi sempre è stato un mio desiderio però siccome sono molto timida quindi a me diviene molto difficile farne parte in tutto ciò premesso questo ho partecipato alla summer quindi in automatico mi è venuto di partecipare pure a questa assemblea e poi comunque la mia tesi tratterà il tema del teatro e come meglio di questa occasione non era cioè prendo questa certo basta allora sì anch'io due anni fa partecipando alla prima edizione della summer school ho diciamo messo ho iniziato a mettere le mani nel teatro sociale a partire proprio da questa esperienza in realtà ho iniziato per superare dei limiti personali e sapevo che effettivamente il teatro poteva darmi questa occasione e questa opportunità l'ho sperimentata sulla mia pelle partecipando anche quest'anno alla seconda edizione della summer school e ho potuto capire che effettivamente c'è del grosso potenziale all'interno del teatro sociale è spendibile all'interno di comunità dove è possibile ottenere dei risultati e dei cambiamenti e delle trasformazioni a livello di relazioni comunitarie e nulla quindi avendolo sperimentato sulla mia pelle mi appassiono sempre di più a questo tema e cerco di capire le ulteriori connessioni interazioni che ci possono essere fra le discipline pedagogiche relative alla pedagogia sociale comunitaria e il teatro stesso io anche ho partecipato a tutte e due le edizioni della summer school anche io ho molto apprezzato il valore trasformativo perché prima diceva si innesca cambiamento ed in effetti il cambiamento avviene innanzitutto a livello personale ma non sicuramente anche un po' terapeutico secondo me però non per una deriva psicologista ma perché credo che nella relazione pedagogica nella relazione d'aiuto bisogna passare anche da una trasformazione personale cioè non ci si può interfacciare agli altri se prima ci sono degli risolti personali quindi si trasformativa propria però sempre finalizzata alla relazione e poi anche alla trasformazione in seno alla comunità sono qui perché nonostante appunto abbia partecipato a tutte e due le edizioni e quindi abbia sperimentato proprio la potenza di questo progetto di questo dispositivo mi sembra che più ci sono dentro meno ci capisco cioè nel senso che si aprono sempre dei lati oscuri e quindi ogni occasione di riflessione ulteriore dà sempre un senso nuovo e quindi utile a livello personale sempre e sociale grazie per tutti questi contributi mi piace notare come ciascuno di noi ha voluto dire anche qualcosa in più ha raccontato un pezzetto di se stesso mi fa molto piacere questo anche perché io credo che il teatro sia narrazione sostanzialmente d'altronde anche a livello ancestrale proprio se vogliamo tornare indietro nei secoli il teatro forse nasceva proprio per la necessità di narrare degli episodi di narrare dei momenti significativi vissuti in prima persona o magari che venivano raccontati ha anche un sottotitolo non tutti sanno che questo laboratorio ha anche un sottotitolo che si chiama nuove forme di sviluppo per il settore in Puglia che secondo me poi è anche la parte più importante almeno secondo noi che l'abbiamo un po' elaborato nel senso che al netto del nuove che di nuovo c'è poco magari su questa terra però in merito a nuove forme anzi a forme di sviluppo del settore sicuramente c'è la comunità europea che sta mettendo il teatro sociale al centro di tutta una serie di linee di finanziamenti e quindi di strategie di politica che forse non tanto si avvicinano le politiche in realtà poi locali cioè c'è una grande differenza probabilmente che io o che noi notiamo in merito a questo poi cosa ne pensate voi e in merito anche a tutte le varie esigenze molteplici che sono state che sono emerse appunto da questa discussione non so chi vuole iniziare a rispondere scusami se ritorno un po' un po' indietro poi affrontiamo anche l'altro tema penso che insomma dopo gli interventi dei relatori quello che mi porto è diciamo anche una maggiore consapevolezza sulla necessità di stare attenti anche a classificazioni categorizzazioni eccetera che è importante anche se poi diciamo anche dai vostri interventi viene fuori che insomma c'è bisogno di trovare anche delle parole giuste per esprimere i nostri bisogni per esprimere i nostri pensieri no? per esprimere le nostre le nostre le nostre passioni e e questo è diciamo è necessario perché se se troviamo anche le parole giuste vuol dire che centriamo di più anche le nostre necessità e possiamo anche definire meglio il nostro il nostro progetto no? a me sarebbe piaciuto anche sapere visto che per esempio Antonio ha parlato di di persone più brave delle persone migliori no? che che devono essere impegnate in questo in questo in questo lavoro di saper parlare con la Madonna che cosa occorre per saper parlare con la Madonna no? cioè di cosa abbiamo bisogno per poter arrivare a parlare con la Madonna no? e allora c'è bisogno appunto di un apprendimento diverso no? c'è bisogno di di competenze diverse c'è bisogno di esperienze di fare delle esperienze diverse cioè il teatro è qualcosa di molto difficile di molto complesso no? penso che ce ne siamo resi conto dalle due ore che che stiamo passando che stiamo passando insieme no? cioè che è semplice dire teatro sociale è questo no? teatro di serie A è questo e teatro di serie B è quest'altro no? allora insomma mi sarebbe piaciuto anche continuare a discutere a discutere di questo perché è connesso anche con con la domanda che ci ponevi ci ponevi adesso no? cioè che cosa ha bisogno il territorio ora in questo momento no? di che cosa ha bisogno la nostra comunità in questo in questo momento allora penso che rispetto la usa ancora questa parola teatro sociale credo che ci siano ci sia bisogno di politiche pubbliche diverse no? che ci sia un'attenzione diversa no? eh perché poi questo questo terreno diciamo è è un campo di intersezione anche di diversi settori no? cioè chi si deve occupare di queste cose i servizi sociali o l'assessore allo spettacolo l'assessore alla cultura l'assessore al turismo no? e quindi eh questo vuol dire che probabilmente diciamo così come sono organizzate le politiche eh sui sui territori ma anche a livello centrale diciamo sono inadeguate per poter eh eh diciamo realizzare degli interventi delle azioni delle azioni efficaci no? e l'altra l'altra permessa che 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 volevo fare che è importante eh a me non piace molto per esempio questo termine creatività no? che non so che cosa che cosa voglia dire eh perché adesso tutto è tutto è creativo no? ci si chiede di come dire di lavorare eh l'Unione Europea adesso sta lanciando un programma eh nel campo culturale si chiama Europa Creativa 2020 no? sono diciamo il sostegno che l'Unione Europea dà per eh le attività culturali che vengono organizzate da da operatori eh presenti presenti in Europa no? quindi programma di cooperazione culturale adesso si chiama Europa Creativa allora la peculiarità credo del teatro sociale eh sia anche quella di un'attività di creazione non di creatività no? cioè un'attività di creazione è l'attività diciamo dell'artista è l'attività degli autori no? eh è un'attività che chiede una continua rimessa in discussione dei risultati conseguiti delle conoscenze acquisiti e che è un lavoro di eh diciamo di sfida di ricerca no? continua che eh che eh che l'attore che l'artista che l'artista fa no? io vedo diciamo un teatro sociale molto debole molto povero no? se non ha questa forza no? di creazione no? questa capacità di produrre di produrre opere di produrre linguaggio no? di produrre innovazione soprattutto no? e la creazione ha a che fare soprattutto con quest'altra parola che è importante che è la bellezza no? riusciamo a a produrre a trarre bellezza da questo lavoro che facciamo anche con soggetti che non sono degli artisti no? allora quanta bellezza c'è? quanta bellezza può esprimere un disabile mentale un disabile psichico allora se ci mettiamo in relazione con questo no? io credo che facciamo delle cose possiamo fare delle cose egregie delle cose delle cose belle che sono ancora più utili no? rispetto alle cose normali che riusciamo a fare con loro allora questa capacità di rimettersi in discussione di rimettersi in gioco di cercare delle nuove frontiere no? con le quali noi esprimerci è un elemento importante dovrebbe essere un elemento importante del fare teatro sociale voglio dire che il problema anche della forma del come narriamo del come raccontiamo no? del come viviamo la nostra esistenza è fondamentale quando parliamo di teatro no? e quindi se noi siamo in grado anche di di affrontare questo questo livello no? di di lavoro io credo che i risultati sono ancora più produttivi sono ancora sono ancora migliori e quindi il teatro sociale non è soltanto l'animazione socio-culturale no? non è l'intrattenimento no? lo sguario che diamo a persone che sono che sono in difficoltà ci dobbiamo misurare anche con un altro con un altro livello diciamo di con un altro orizzonte che è appunto l'orizzonte della bellezza del cambiamento del cambiamento delle forme del cambiamento del linguaggio dei linguaggi quindi penso che sia che sia importante io l'ho sempre concepito come un lavoro no? e quindi anche diciamo il mio lavoro all'interno di Coreia è stato quello anche di come dire contribuire perché questa attività questa attività artistica questa attività teatrale avesse anche delle basi diciamo organizzate forti no? perché soprattutto questo nostro territorio ha sempre vissuto di di come dire di sprazi di di genialità no? che magari si sono spese per pochissimo per pochissimo tempo no? quindi non sono riusciti a sedimentare nel tempo anche un certo lavoro determinati progetti no? da una parte dall'altra anche questa secondo me persecuzione che vive questo territorio no? cioè l'idea che da soli si possa risolvere le situazioni no? che da soli si possa fare fare teatro no? io penso che il teatro è ancora l'unica arte delle poche arte invece che bisogna farla insieme no? bisogna essere diversi no? più persone più persone affrante e quindi diciamo un lavoro di comunità no? prima ancora che un lavoro per le comunità e quindi diciamo è importante anche che appunto Fabio parlava di sviluppo no? lo sviluppo riusciamo a crearlo riusciamo a fare in modo che le nostre attività abbiano dei risultati un impatto sul territorio no? se diamo anche delle basi diciamo organizzative solide a questa nostra attività no? non dobbiamo le cose non le facciamo soltanto per noi perché ci piacciono no? le facciamo perché pensiamo che servano anche ad altri no? e quindi diciamo questa idea dell'artista solitario è un'idea che non mi piace non mi piace tanto no? mi piace più mi piace più gruppi di persone che condividono dei progetti condividono delle esperienze e sono in grado di portarle avanti quindi diciamo è importante non so chi lo diceva no? questo legame che diciamo il teatro sociale mette in piedi anche con con il territorio di riferimento no? adesso diciamo nel Salento tantissimo è cambiato in in questi anni però io vedo anch'io il rischio che torniamo indietro no? rispetto a tante a tante cose ieri sera dicevo per esempio è possibile che nel nostro settore si possa accettare che ci sia tantissimo lavoro in nero no? che le persone lavorino in nero che non ci si preoccupi dello statuto professionale dell'artista dell'attore no? e soprattutto in questi momenti di crisi no? in cui gli assessori programmano spettacoli no? che costano 100 euro 200 euro 300 euro no? vuol dire che le persone non possono essere tutelate dal punto di vista assicurativo dal punto di vista professionale no? allora questo scopertiare la pentola come diceva Fabio di tirare fuori tutto quello che è possibile tirare diciamo dal punto di vista delle dinamiche sociali no? dal punto di vista delle aspettative della gente ecco dovremmo farle anche come dire con dei criteri con una razionalità no? avendo presenti anche degli obiettivi insomma per quanto mi riguarda a me piacerebbe molto insomma anche per chi di voi fosse interessato a continuare a discutere a tenere aperto questo dialogo no? anche rispetto a questo progetto che abbiamo del teatro dei luoghi no? perché insomma è un progetto che nasce sul presupposto di un coinvolgimento di associazioni cittadini no? che sono interessati a promuovere questo tipo di attività e quindi insomma sarei contento anche di progettare poi insieme a voi no? anche interventi specifici che che riguardano questo 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 ambito adesso c'è la nostra idea di rifare riproporre questo progetto per per luglio dell'anno prossimo per cui da qui in avanti iniziamo a ragionare un po' su che cosa che cosa si può fare il 20 dicembre presenteremo il video del dell'edizione che abbiamo fatto l'anno scorso il teatro sul teatro dei luoghi e quindi può essere anche quella un'occasione per iniziare a riprendere a riprendere questi temi e questa questa discussione grazie interessante quest'ultimo giro molto pragmatico no? allora se io debbo ragionare da progettista della formazione e devo chiedermi devo farmi una domanda di questo tipo chi è il professionista del teatro sociale? questa è una domanda fondamentale cioè a che titolo uno può dire sono un operatore qualificato come mettersi nei guai in modo di rispondere del teatro sociale perché oggi c'è un problema si dice con una brutta parola di accountability no? cioè di risposta all'esterno delle professioni io debbo sapere che cosa mi aspetto da un infermiere che cosa mi aspetto da un abbadante ogni professione deve avere una sua riconoscibilità deve avere un confine non deve sovrapporsi eccessivamente con un'altra eccetera eccetera è un processo che peraltro è obbligatorio per legge cioè se si vuole in qualche modo rientrare tra i professionisti riconosciuti dalla legge 4 2013 del gennaio 2013 bisogna seguire un certo percorso questo percorso dice che bisogna rendere trasparente il profilo professionale di ogni singola professione e quindi bisogna dichiarare esplicitamente chi è in che termini in termini di competenze quindi bisogna trasformare i profili professionali in profili di competenze e questo è fondamentale altrimenti stiamo nel totalmente improvvisato e quindi viene meno anche un principio di responsabilità sociale del risultato dell'artefatto del professionista questo è un passaggio chiave molte professioni sono ormai incamminate in Italia ad oggi 78 profili professionali hanno chiesto il riconoscimento a norma della legge 4 2013 e quindi significa che cosa significa che se che bisogna entrare in un cammino che poi alla fine ha come risultato attraverso il concorso degli interessati degli operatori entrare dentro un cammino che dice come i soggetti si formano che competenze alla fine della loro formazione esibiscono che competenze esibiscono come si aggiornano come si sono auto-organizzati per garantire il pubblico cioè l'utente il cliente e quindi i sistemi di albi e registri che sono tenuti da associazioni professionali riconosciute dal ministero in virtù che debbono rispettare una serie di principi e che sono accreditati da organismi nazionali e internazionali riconosciuti come capaci di accreditare tipo che ne so dentro delle norme uni che praticamente recepiscono il profilo professionale quindi c'è un percorso disegnato dalla legge allora la domanda da un punto di vista molto pratico è se si vuole stare dentro le professioni normate dalla legge 4 2013 o se si vuole stare fuori perché oggi rispetto al passato c'è questo discrimine normativo vogliamo stare dentro e allora andiamo a fare un seminario ripercorriamo i passaggi della legge e cerchiamo di capire per esempio come organizzare professionalmente il settore del teatro sociale a quali condizioni possiamo stare dentro le professioni normate se possiamo iniziare un percorso che ci porta all'accreditamento uni alla definizione delle competenze professionali come facciamo che organismo dobbiamo creare per fare gli albi i registri degli operatori del teatro sociale come facciamo che criteri mettiamo di aggiornamento di manutenzione delle competenze e aggiornamento della professione ora io chiaramente è chiaro che questo percorso è poco compatibile col termine creativo però è molto compatibile col termine organizzazione mi permetto cioè quello che contenisce la dignità della professione è il punto vocale direi no? cioè proprio costitutivo è sicuramente il discrimine secondo me quello è il discrimine perché in Italia per lo più perché adesso io sto generalizzando per molti paesi per esempio in Germania i teati sono alla meccia di tutti hanno un sistema che è estremamente pragmatico hanno una identità riconosciuta anche lì dove c'è una dinamica completamente diversa però c'è veramente una incontrofina assoluta rispetto a quello che accade qui ci sono delle realtà molto positive e lo io vi parlavo del territorio prima che sono davvero in crescita e questo riporta molti di noi giovani con questo intento a tornare però deve avere veramente una costituzione robusta deve essere proprio programmata produttata e pianificata e costruita effettivamente scusami no no è perfettamente in linea con quello che dico io e allora l'altra questione finora l'università ha avuto due compiti essenzialmente per legge la mission era doppia ricerca e didattica di tipo formale cioè dentro curricoli formali anche qui normativamente all'università è stato riconosciuto un terzo ruolo quello di curare il lifelong learning cioè l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e quindi è stato chiesto all'università di porsi il problema di come mettersi a servizio dei bisogni delle persone di vedere riconosciute le competenze comunque acquisite di come mettersi a servizio dei professionisti per accompagnarli nel loro bisogno costante di apprendimento quindi noi non è che per esempio assegnando all'università la funzione di affiancare un processo di questo tipo stiamo forzando la natura della istituzione semplicemente stiamo interpretando quella terza gamba che adesso è stata riconosciuta all'università quindi si tratta cioè di mettere assieme se veramente vogliamo fare il salto di qualità poi se vogliamo fare il salto di qualità si tratta di mettere assieme gli operatori di farli discutere di mettere accanto agli operatori l'università e di spingere spronare gli operatori a costituirsi in associazioni professionali di darsi di autonormarsi di autoregolarsi perché il professionista è quello che poi accetta cioè discute che norma darsi si dà una norma e la segue poi la modifica quando quella norma si profila come una gabbia però capisce che da lì bisogna passare stabilisce i propri ambiti di intervento definisce le proprie metodologie di intervento stabilisce i sistemi di valutazione stabilisce a quali titolo un professionista è un professionista stabilisce quando un professionista non lo è più in virtù di che cosa si assicura cioè si dà un'assicurazione professionale nel caso di errore eccetera eccetera cioè c'è una questione di definire una deontologia professionale e quindi un percorso si parte dal percorso formativo da riconoscere le competenze il profilo di competenze se noi non definiamo il profilo di competenze d'altro canto l'uni non fa altro che chiederci questo quando io voglio accreditare una professione mi chiede esattamente questo esprimimi in termini di conoscenze ma soprattutto di saper fare come si lega la conoscenza e il saper fare in un saper agire e io ti riconosco ti do il bollino ti do il bollino allora oggi saremmo nelle condizioni di intraprendere un cammino di questa natura la condizione che vogliamo fare voglio dire ci sono professionisti accreditati del teatro ci sono enti di formazione che potrebbero fare questo ci sono i professionisti rimbocchiamoci le maniche e cominciamo un percorso e cominciamo un percorso cioè ciò di cui abbiamo discusso oggi è così il primissimo assaggio per esempio di un cammino possibile naturalmente sembrerà a qualcuno sembrerà riduzionistico il discorso dice la complessità e va bene però anche da quello passa il riconoscimento il riconoscimento della professione insomma a me non risulta che in Italia qualcuno abbia intrapreso un percorso di questa natura perché io seguo tutto il discorso delle professioni educative è stato iniziato un discorso che arriverà presto a compimento che è quello delle arti terapie ma non è ovviamente il discorso del teatro del teatro sociale perché il teatro sociale è il teatro che costruisce il noi quindi ha natura e carattere assolutamente differente che introduce un elemento critico di riflessione sul noi eccetera eccetera che discorre del dramma sociale laddove lo aiuta ad individuare le situazioni di dramma sociale e a elaborarle eccetera eccetera allora quello che dico io è se vogliamo fare un discorso serio partiamo dalla formazione dall'operatore dalla definizione delle competenze a quel punto sapremo quali discipline far incontrare allora stabiliamo che gli ambiti per esempio formativi sono cinque faccio per dire che dobbiamo coltivare le competenze per esempio comunicative le competenze strettamente professionali in ordine al teatro che dobbiamo far maturare le competenze metodologiche dell'intervento le competenze di tipo sociologico eccetera eccetera e a quel punto individuati per esempio cinque ambiti individuiamo anche che tipo di competenze finali rispetto ai cinque ambiti noi riusciamo a dare e lì esce un professionista che per esempio è un buon comunicatore ha competenze della metodologia dell'intervento sociale ha competenze in ordine drammaturgico eccetera eccetera e quindi noi abbiamo qualificato e abbiamo aiutato ci siamo aiutati a definire qualcosa che abbiamo capito oggi è ancora abbastanza impalpabile obiettivamente con il rispetto delle esperienze di tutti che sono notevolissime ma dobbiamo portare a fattore comune queste esperienze e dobbiamo riconoscerci reciprocamente quindi bisogna fare l'associazione professionale come facciamo punto di domanda un flash sull'esigenza che è venuta fuori proprio adesso in realtà anche noi nel mondo dell'improvvisazione teatrale come scuole di improvvisazione teatrale a livello italiano ci siamo posti la stessa domanda come si fa a riconoscere un formatore professionista di improvvisazione teatrale ma questo vale per qualsiasi disciplina ovviamente artistica e abbiamo avviato un percorso insieme all'università del Salento a livello nazionale di accreditamento di riconoscimento di valutazione una prima fase perché è un percorso questo perché è un percorso e infatti da un anno per esempio ci sono tutti i docenti di improvvisazione teatrale che già erano professionisti diciamo ex-ante una fase in realtà seria di riconoscimento da parte dell'università quindi è un anno che si sta facendo questo percorso di valutazione insieme a loro che si concluderà a gennaio a Piombino la prima parte di valutazione delle professionalità di questi di questi docenti quindi i docenti si sono sostanzialmente messi in gioco per dire basta adesso mi sono stancato che il mio vicino di casa un giorno si sveglia e dice io sono un professionista insegnante docente di teatro di improvvisazione si improvvisa improvvisatore che è proprio perfetto che gli spada ferisce e quindi apro corsi apro scuole e apro cose che vediamo in ambiti molto simili ovviamente e quindi abbiamo iniziato questo percorso insieme all'università che poi è un percorso difficile un percorso duro è un percorso che mette delle asticelle ovviamente che bisogna superare però attraverso tutto quello che ci siamo detti in questa giornata partendo da questa mattina quindi attraverso per esempio una valutazione iniziale una serie di step il monitoraggio la formazione continua la verifica il sistema del singolo professionista esatto noi adesso siamo partiti dal singolo professionista per poi partire per poi gruppi di professionisti possono far accreditare delle scuole ovviamente questo è un punto di svolta secondo noi che sarà decisivo e voleva intervenire qualcun altro abbiamo solo una cosa velocissima sono privilegiato una cosa velocissima intanto penso che voi siate come almeno quello che abbiamo visto e ringrazio naturalmente Fabio per l'organizzazione che siete fortunati perché avete avuto già due proposte pratiche di solito queste robe finiscono in chiacchia abbiamo Franco che dice coprogettiamo insieme quello che sta succedendo a luglio costruiamo una cosa insieme è un teatro stabile di innovazione vi invito ad andare in giro per altri teatri stabili di innovazione non lo fanno sono abbastanza roccaforti chiuse insomma qui c'è una bella apertura parte di Coreia che segnalerei due mi sembra importante quello che diceva adesso il professor Colazzo che per semplicità dire salvatore per motivo grazie prego no perché se no tutta questa cosa perché e forse le due cose possono essere messe insieme cioè se Coreia e l'università insieme al gruppo se mai ci sarà un gruppo vuole iniziare questo percorso noi tutti noi siamo un po' distanti siamo qualche chilometro di distanza però seguiremo da lontano ma è un percorso fattibile ed è molto interessante e ci sono i germi per qua sta poi nella voglia o meno di quindi io sono assolutamente favorevole a quello che stiamo dicendo in questo contesto naturalmente faccio anche un passo indietro e di nuovo essendo un osservatore della nostra società come tutti noi mi chiedo veramente e faccio un riferimento alla Madonna che so che ci tieni appunto lo dico io perché per lei lo sai che il riconoscimento del miglior cantore che doveva cantare la Madonna dell'Arco non era un riconoscimento istituzionale gli era riconosciuto dalla comunità ora la complessità della nostra società probabilmente ci impone di costruire altri tipi di riconoscimento però pensate lo dico a me e non lo dico a voi pensate come è cambiato la nostra società nessuno cioè si permettava quando ero piccino io c'era Carmine che cantava tutti sapevano dove abitava Carmine di chi era figlio eccetera adesso lui è morto è passato la palla a un altro e non hanno mica fatto le elezioni cioè quello lì era quello dietro di Carmine che cantava Carmine è morto chi tocca tocca Antonio perché è perché quello è Maradona è Maradona uno ce n'è ora stavo dicendo per quanto riguarda il riconoscimento di quelle comunità lì di quelle società di quei riti di quelle feste che in parte in alcune parti Italia funziona ancora così nell'ambito di questa professione è necessario questo percorso non c'è nessuno che ti riconosce Maradona o meno e credo che l'università se si ponga all'interno di questo percorso possa essere utile perché parliamoci pure chiaramente gli operatori di questo settore sono l'uno contro l'altro armati quindi o c'è un super partes anche scientifico che si mette in campo è una professionalità molto alta e di lungo tempo che si mette a lavorare con i ragazzi Franco sente giustamente anche la sua responsabilità di padre storico di questa squadra è molto bella questa cosa che ha detto oh noi non avevamo scuola di teatro noi ce la siamo dovuti inventare eravamo in quella cascina ci invitavamo gli artisti che venissero a farci formazione lui l'ha fatta sta gavetta ora noi vabbè voi avete la fortuna che una serie di cose esistono anzi sono finanziate dalla regione Puglia dalla comunità europea da Piripicchio e Piripacchio penso che questo percorso possa essere fatto mi sembra interessante ultimo inciso che quando mi dice qual è la cosa importante se uno dovesse dire cosa questa è qualcosa di pragmatico da fare l'altra battaglia che io faccio nei miei territori ma anche a livello nazionale come direttore della rete non sono come teatro delle forme è assolutamente politica è una battaglia politica vera da fare nel senso più bello del termine perché bisogna smettere di pensare che la cultura sia quella cultura lì cioè bisogna smettere di pensare che quella sia l'ambito della cultura perché fin quando le risorse l'80% se le vanno in un certo tipo di cultura senza ricordare che cultura deriva da coltura quindi insomma da una condivisione di altre cose che hanno a che fare con la cultura e quindi anche questi ambiti di cui abbiamo parlato stiamo facendo una battaglia per pochi quadrini bisogna cambiare un'idea politica di cultura bisogna smettere da pensare che l'assessore della cultura ripeto sia un assessore allo spettacolo su questo io continuo una battaglia secolare ma credo non l'ho fatta io l'ha iniziata De Simone io ci vado dietro assolutamente un maestro però è un altro punto fondamentale bisogna smetterla con la mercificazione della cultura con i saloni del gusto del libro delle tradizioni i saloni di qua di là e di là che poi alla fine portano poco e niente di mercificare il prodotto culturale come fai a mercificare il lavoro che ha fatto lui in Serbia io nelle Langhe l'oro nella Carpignano come fai a mercificarlo come lo vendi quella roba là grazie a Dio non si può vendere però se tutto ha un valore di merce c'è qualcosa che non va ma proprio nel concetto culturale la battaglia ma credo che anche questo è un modo di fare una battaglia culturale sia quella e il percorso che dite mi sembra che sia quel percorso che dite adesso io dico che dobbiamo dobbiamo dire noi per un motivo semplicissimo ognuno di noi ha dei ruoli istituzionali che sono differenti e complementari quindi la rete italiana di cultura popolare si accetta l'idea ma molto latamente che l'operatore del teatro sociale è un mediatore della cultura del popolo cioè della cultura popolare allora la costruzione di questo percorso deve in qualche modo implicare la rete perché poi la rete può essere anche l'infrastruttura che ci consente di pensare ad un'associazione professionale nazionale degli operatori del teatro sociale cioè quello che io chiedo alla rete è di supportarci in virtù indubbiamente in virtù del cammino storico della rete che ha messo assieme una pluralità enorme di soggetti di comunità accogliendo l'idea che l'operatore sociale sia un mediatore della cultura popolare si senta coinvolta ci dia per esempio io ora non so non voglio impegnare le politiche della rete sono proposte poi saranno valiate come voi vorrete creare un'esperienza formativa pilota per esempio questo che vedrebbe coinvolte un po' di università un po' di soggetti come Coreia significherebbe intraprendere un discorso che sposta assolutamente il livello del dibattito nazionale perché o riusciamo a pensarlo a quel livello o questo discorso ce lo racconteremo di nuovo l'anno 21 lamentandoci un po' di più ovviamente qualcuno vuole aggiungere qualcosa? si voglio andare a mangiare allora io concludiamo questa prima giornata allora dei laboratori dal basso la nostra intenzione oggi sono davvero molto contento per tutti gli strumenti che ci avete fornito e che ci siamo anche guadagnati in un certo senso con la discussione e che abbiamo messo nella cassetta degli attrezzi di cui si parlava anche questa mattina credo che questo almeno nel nostro spirito non era quella di fare l'ennesima conferenza l'ennesimo dibattito ma di quagliare penso che ci siamo riusciti in questa prima giornata volevo ringraziare ovviamente tutti i relatori che si sono resi disponibili dando un esempio pratico già nella scrittura di questo progetto perché per esempio il progetto si l'ha scritto improvvisarte però per esempio ci ha aiutato anche esso del Gottardo quando ho chiesto la partnership al teatro Goreia senza esitazione ci è stata data la partnership con la messa a disposizione delle strutture l'università ha fatto lo stesso non è facile però non è neanche impossibile certe volte crediamo che siano cose completamente avulse da logiche eccetera eccetera in realtà non è sempre così quindi magari bisogna avere un progetto serio da mettere in campo oggi questa mattina abbiamo anche invitato l'assessore alla cultura per esempio che molto spesso quando si organizzano queste cose si evita di chiamare o si chiamano soltanto per circostanza noi abbiamo chiamato proprio per quel discorso che faceva proprio Antonio nel senso le politiche culturali qui a Lecce ma un po' dappertutto evidentemente sono esattamente quelle dello spettacolo tant'è che anche i contenuti che si sono stati di questa mattina c'erano 60 compagnie che facevano teatro invernacolo e il pesiello le abbiamo buttate tutte via adesso chi vuole il pesiello deve pagare questo è stato un inciso in un discorso più ampio ovviamente però che ci fa capire anche che tipo di rapporto poi ci può essere tra chi opera tutti i giorni nella cultura e chi l'amministra ovviamente un rapporto difficile che però deve essere necessariamente dialogico deve essere necessariamente di confronto come posso dire deve creare del cambiamento a livello anche politico ovviamente se no davvero riusciamo ad andare non troppo lontano in questo io vedo che le politiche regionali magari riescono a darci una mano e le politiche europee sono molto più avanti e quindi vedono una serie di coinvolgimenti che per esempio tra più enti fanno sì che le associazioni le cooperative le imprese si debbano mettere insieme per creare dei progetti e quindi l'input che vi diamo che diamo a tutti quanti e che è stato recepito poi in maniera spontanea anche dai relatori è quello appunto poi di dare seguito quindi di di connetterci di rimanere in connessione di individuare dei progetti che sono già progetti avviati avviarne dei nuovi e di seguirli questa mattina c'è stato anche Nicolas per esempio che è uno dei responsabili dei laboratori dal basso che è venuto a fare soltanto un saluto lui ci ha detto che per esempio la regione vorrà rifinanziare intenderà rifinanziare i laboratori dal basso che hanno funzionato ovviamente quindi questo è un ulteriore input e stimolo per noi a dire va bene allora si vede che stiamo facendo bene questo discorso può continuare abbiamo abbiamo anche il sostegno evidentemente di una parte della politica che ci crede ora domani avremo un altro doppio intervento per il secondo giorno la mattina parleremo di organizzazione teatrale proprio ci sarà direttrice della stagione del teatro poesiello quindi ancora una volta una connessione con il teatro comunale di Lecce e la capo ufficio stampa del teatro pubblico pugliese loro ci racconteranno come organizzare un evento come un evento teatrale come quali sono gli elementi importanti indispensabili per una direzione artistica per una scelta una selezione e poi come comunicare un evento teatrale che ovviamente questo anche per chi è nel settore sa che molto spesso facciamo delle cose straordinarie per esempio però non siamo in grado poi di comunicarle nel pomeriggio invece riprendendo anche l'intervento del ragazzo Alberto il tuo nome scusami Renato c'è andato vicino parleremo invece di edutainment quindi di questa di questa formula che noi stiamo utilizzando molto spesso di andare per le strade attraverso il teatro raccontando storie aneddoti eccetera eccetera e ci saranno due ospiti uno che è Renato Prezioso che viene da da Siena fa parte di Improteatro ci parlerà dei format di edutainment nei musei nelle biblioteche per valorizzare i beni culturali e il secondo si chiama Andrea Sibilia che è l'organizzatore dei ghost tour quindi ci parlerà esattamente di quello su cui noi stiamo lavorando tra l'altro da un annetto non ci conosciamo quindi l'organizzazione a Lecce di un ghost tour loro lo fanno a Triore che è il paese delle streghe vale a dire una visita guidata di edutainment come quelle fatte al museo ferroviario che stiamo facendo al museo ferroviario però ripercorrendo i temi misteriosi i temi crime che ci sono in città quindi lui ci dirà come l'hanno realizzato nel paese delle streghe e questa sarà la seconda giornata anche in questo caso abbiamo voluto invitare poi quelli che stamattina abbiamo definito stakeholders infatti dovrebbero venire la dottoressa Mandurino che è la responsabile delle politiche di Puglia Promozione perché noi riteniamo che il teatro abbia assoluta necessità di confrontarsi anche con altri settori tra cui primo su tutto il turismo che in questo periodo ovviamente ci vede come Puglia una meta molto ambita quindi con anche un'occasione per noi che facciamo teatro e verrà il direttore del MUST che è il museo storico di Lecce l'architetto Elia che può essere un nostro diretto stakeholder anche a proposito di format o di temi da proporre poi in città questo è tutto io vi ringrazio ringrazio il professor Colazzo ringrazio il direttore Ungaro Antonio Damasco e Ada Manfreda e anche poi Ezio Ezio del Gottardo e Toto Potera che sono rimasti insomma pressoché per tutto per tutto l'incontro grazie e a domani grazie 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 grazie